Andrea che bella partita intanto stasera qui al Palatrento, due grandi squadre, grandissima palla a volo, forse questo rende ancora più importante la vittoria che abbiamo portato a casa. Sì, ci siamo venuti qui con la consapevolezza che sarebbe stata molto difficile anche perché Trento è una squadra molto competitiva e che tutto l'anno ci stiamo sfidando con partite veramente importanti, è stata una bella partita credo alla fine, giocata veramente sul fil di lana, tante belle battute da entrambe le parti, abbiamo sopperto entrambe la ricezione, ci sta con una battuta di questo livello e alla fine insomma qualche dettaglio, qualche buon momento dei nostri giocatori ha fatto la differenza ai momenti topici, quindi felice di aver portato a casa i due punti. Senti, grande preparazione anche per la Coppa Italia, giocare partite di questa intensità sarà utilissimo quando fra due settimane avremo la Final Four. Assolutamente sì, era quello che volevamo, abbiamo lavorato duramente questa settimana, è inutile dirlo, ci stiamo preparando per la finale di Coppa Italia, lo sapete, lo dico sempre, quindi è normale, abbiamo lavorato tanto fisicamente, tanto tecnicamente, forse eravamo un po' meno brillanti, però quello che rimane è il fatto che questa squadra rimane ha attaccato la partita anche nei momenti di difficoltà. Grazie Andrea.